29 minuti in diretta con l'ingegner Trento per rispondere alle tue domande. Ogni giorno mi fate decine di domande sulle pompe di calore. Chi sta costruendo casa mi scrive Siamo in fase di scelta. L'idraulico mi ha proposto anche la pompa di calore. Per questo motivo, prima di dare conferma, volevo avere un parere per una pompa di calore professionale. Per conoscenza altri due idraulici mi hanno anche proposto le marche X, Y. Oppure chi sta ristrutturando casa mi scrive Buongiorno Samuele, avrei piacere ricevere alcune informazioni riguardo l'installazione di un impianto con pompa di calore professionale. Vado a sfiegarti la mia situazione e spero di non farti perdere troppo tempo. Io e mia moglie stiamo ristrutturando casa e una delle proposte che mi sono state fatte è quella della pompa di calore abbinata a una caldaia a condensazione. In alternativa, una idrostufa a pellet più caldaia, oppure a un'altra soluzione, la caldaia a pellet. Ovviamente tutti questi impianti andrebbero collegati ad un accumulo di acqua calda sanitaria e tecnica. A titolo informativo, ti dico che dovrei montare minimo 3 kilowatt di fotovoltaico. Mi puoi consigliare secondo te qual è la migliore soluzione? Ti ringrazio per la pazienza e aspetto una tua risposta. Chi invece mi chiede Ma veramente la pompa di calore funziona anche senza la caldaia di supporto? Oppure chi ha un impianto fotovoltaico e vuole sfruttarlo al massimo per riscaldare casa oppure solo l'acqua calda sanitaria. Non è semplice, lo so benissimo. Avrai molta confusione perché tutti dicono Tutto è il contrario di tutto. Ma ci sono centinaia di persone come te nella tua stessa condizione con la paura di fare la scelta sbagliata e non dormire la notte. Ed è per questo che mi sono deciso di fare l'evento in diretta per darti le risposte alle tue domande. Ma come funziona? Beh, rimarrò nel mio ufficio dalle 18.15 alle 18.44 del giorno indicato nella descrizione di questo video che trovi sopra oppure sotto. E sarò in diretta su YouTube Nella descrizione trovi anche il link per collegarti Potrai quindi unirti a noi e farmi le domande in diretta scrivendo sulla chat di YouTube Potrai espormi i tuoi dubbi il tuo caso specifico e farmi la domanda a cui nessuno ancora ti ha mai risposto ma non sarà una lezione di ingegneria ma con parole semplici cercherò di aiutarti a capire in modo che potrai fare le scelte consapevoli e in autonomia perché anche se non sei un tecnico hai le capacità per osservare, analizzare e decidere infatti non ti insegnerò nulla porterò semplicemente la mia esperienza lavorando con le pompe di calore dalla mattina alla sera è un evento mai visto prima nessun tecnico fino ad oggi ha messo a disposizione il suo tempo gratuitamente per fare consulenza al tuo specifico caso 29 minuti sono tanti ma sono anche pochi perciò affrettati a prendere il tuo posto e fare per primo le domande perché seguirò l'ordine di arrivo quindi segnati sull'agenda 18.15-18.44 del giorno indicato nella descrizione ma a questo punto come fare? segnati il promemoria sull'agenda e dalle 18.10 collegati al mio canale YouTube se non sei già iscritto al mio canale ti consiglio di farlo cercando su YouTube Inge Samuel Trento ti consiglio di cliccare anche sulla campana per ricevere il promemoria dell'evento in diretta e per gli eventi che farò in futuro ma oggi oltre alla consulenza ti do un altro bonus puoi inviarmi le tue domande i giorni prima della diretta nella descrizione del video trovi il link al modulo per inserire le tue domande e se pensi che tutto questo possa essere di interesse a qualche tuo amico o conoscente allora condividi questo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti